oggi parliamo dell'importanza del taglio delle pietre sapete che le pietre l'atto di tagliare le pietre è antica di migliaia di anni ma le gemme si distinguono appunto in sfaccettate quando sono tagliate in tante faccette e quindi sapete che gli antichi romani consideravano queste pietre volgari e le gemme non sfaccettate quindi cabochon le pietre che hanno una superficie liscia molto molto apprezzate specialmente appunto nell'epoca romana perché appunto la sfaccettatura non andava di moda ma con questo tipo di lavorazione a volte si vede molto meglio la tipologia della pietra allora lo stile il taglio la forma del taglio dipendono anche dalla qualità della pietra quindi quando un tagliatore ha in mano una pietra grezza stabilisce quali siano i tagli in modo da far risaltare le peculiarità della pietra e non rovinarla l'intento della del tagliatore deve essere quello di mantenere il numero maggiore di carati della pietra grezza perché sapete che ci sono stati dei diamanti famosi che sono stati tagliati purtroppo perché ahimè non si poteva farne diversamente quindi un diamante grosso ne sono venuti fuori degli altri piccoli quindi l'intento di mantenere l'angolo critico della gemma che è l'angolo di massima rifrazione e che si traduce inetarviabilmente in una gemma di dimensioni più ridotte se si accetta una piccola ridondanza del padiglione di cui abbiamo parlato la gemma potrà avere un peso maggiore ma non la sua migliore lucentezza e occorre anche considerare l'impatto delle finestre e l'impatto delle zone di estinzione le finestre sono zone dove il colore sbiadito più sbiadito della 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 gemma mentre l'impatto delle zone di estinzione sono zone in cui ci sono delle oscurità in qualche tutte le gemme hanno delle zone di estinzione e tutto questo avrà un impatto ovviamente sulla bellezza della gemma vi ho parlato delle delle gemme tagliate di 50 con 57 sfaccettature quella del brillante il primo tagliatore fu vincenzo peruzzi veneziano nel settecento poi a rimorse nel 1860 fondò a boston nel massachusetts il primo laboratorio di americano per il taglio di diamanti e il genio matematico russo marcele marcele scusate tol storsi ha poi esposto il metodo per calcolare i tagli necessari per creare l'ideale taglio di brillante ora al di là delle dei tagli dobbiamo considerare le forme dei tagli l'ovale è il più diffuso anche perché si adatta maggiormente sia ai ciondoli sia agli anelli e quindi è la taglio più comune e bilancia anche molto bene il peso della pietra però una volta che stabiliamo la preferenza in materia di forma bisogna tenersi alle seguenti indicazioni il colore omogeneo uniforme senza aria diversificate l'equilibrio simmetrico e la proporzione cioè il taglio deve essere simmetrico non ci devono essere tagli fatti male le pietre devono essere cioè i tagli devono essere simmetrica e i tagli devono essere uguali poi l'altezza della corona e la profondità del padiglione la corona ve l'avevo già fatta vedere e la parte intorno sotto sotto la tavola deve essere appunto in una diciamo altezza e profondità del padiglione devono di solito essere improporzionati la lucentezza chiaramente se non c'è se la pietra è tagliata male non c'è lucentezza non vale non vale vale poco la purezza quindi la distribuzione delle inclusioni meno ce ne sono e meglio è a volte però alcune pietre hanno delle inclusioni peculiari che invece ci devono stare la buona pulitura cioè significa senza scalfitture senza visibili graffi eccetera l'estensione del padiglione e la circonferenza della cintura accettabile cioè il padiglione la parte sotto la cintura e la quale parte sotto ancora la corona l'affilatura delle giunture tra le faccette quindi le faccette devono essere perfettamente affilate una verso l'altra non devono essere arrotondate e la maggior parte del peso della gemma è valutabile conservandola osservandola scusate della faccia superiore in giù quindi guardando così la pietra poi abbiamo io l'altra volta vi ho fatto vedere i tipi di gemme cioè dei tagli di gemme e la prossima volta parleremo del lavaggio della gemma perché le cell e le tele le gemme vanno vanno lavate vanno pulite quindi mi raccomando cominciate a riflettere su questi parametri che vi ho dato sulle immagini che vi ho fatto vedere la prossima prossimo mese mi arriveranno delle pietre tagliate che vi farò vedere in maniera da farvi capire bene perché sto aspettando un un topazio per per farvi vedere il padiglione la corona siccome un topazio da 100 carati si vede molto bene per farvi vedere la tavola la corona il oddio la cintura ecco non mi ha il termine e il padiglione questa maniera potete vedere come fatto una gemma adesso io gemme grosse da farvi vedere non ne ho per cui per farvi vedere una così per caso è inutile volevo fare un piccolo una piccola parentesi allora il taglio delle gemme riguarda le gemme però voi dovete sapere che anche i cristalli vengono tagliati e voi sapete che esiste una grossa casa di cristalli che sono gli swarovski che appunto è diventata famosa sia per i trattamenti che fa al cristallo al vetro che poi diventa cristallo e sia al fatto che questi tagli danno delle della lucentezza le pietre che sembrano brillanti ora siccome la swarovski è una casa di produttrice molto molto diciamo avanzata ci sono stati poi i soldi cinesi che hanno provato ad imitare questi cristalli ci sono dei cristalli cinesi dove le sfaccettature su una pietra quindi la pietra è sfaccettata così come il diamante nel senso dovunque ci sia da tagliare delle faccette le faccette devono essere ben fatte quindi devono essere simmetriche devono essere a taglio netto non devono essere sbavate quindi affilate come dicevo prima e succede invece che in molti cristalli di qualità scadente queste faccette quando le voi le guardate a lenti 10 gradimenti vi accorgete che non sono tutte uguali e che sono tagliate in modo asimmetrico molto male in questo caso il cristallo vale molto poco indipendentemente che sia swarovski o che sia cinese guardate sempre le faccette specialmente non so se avete una rondella se avete oppure anche proprio una pietra tagliata come un brillante guardate le faccette a lenti 10 gradimenti già potete capire se la faccetta è stata tagliata bene chi taglia bene le pietre che sia la swarovski o che sia i cinesi non ha importanza da alla pietra una grande lucentezza e quindi lo sfaviglio sarà maggiore se una pietra tagliata male che sia cinese o che sia anche della swarovski risultato sarà scarso quindi a parte la marca che è una garanzia di qualità ma anche di un prezzo elevato ci possono essere delle pietre con degli cristalli comprati in altri paesi come la cina che sono tagliati anche bene io ho detto prima i cristalli cinesi sono tagliati male ma non tutti sono tagliati male alcuni cristalli venduti all'ingrosso sono tagliati male perché appunto il posto è molto basso quindi non devono starci dietro molto però ci sono dei cristalli tagliati molto bene anche cinesi che non hanno niente da che da che perdere con la swarovski per cui io spesso dico non diamo nomi alle cristalli o anche cioè terminologie specifiche di marche perché dire a un cristallo swarovski uno perde la testa per un cristallo swarovski non è detto possono esserci dei cristalli cinesi tagliati benissimo chiede la swarovski se ne fanno un baffo quindi non lasciatevi mai cantare dalle da quello che dicono gli altri sia di una pietra in questo caso preziosa sia di un cristallo una marca ma guardate coi vostri occhi quello che avete sotto il naso se non vi piace anche se vi stanno dicendo che vi stanno vendendo una cosa bellissima questo non vuol dire che la dobbiate per forza comprare io per esempio ho quest'anello un'ambra che non piace a molti perché è molto sporgente e invece mi piace tantissimo non è detto che voi dobbiate comprare lo stesso anello perché non vi piace perché ce l'ho io e va di moda e allora lo comprano anche gli altri a me piace a voi no a un altro può sembrare una cosa stravagante a me piacciono gli anelli stravaganti di conseguenza ognuno di noi deve studiare le cose che compra pietre perle eccetera eccetera e guardare quello che gli piace di una pietra anche se gli stanno dicendo guarda ti vendo uno smeraldo bellissimo ma se a me gli smeraldi non piacciono e preferisco comprarmi una morganite per esempio compra morganite quindi ricordatevi sempre che le pietre devono piacere prima di tutto la forma tutto l'insieme di vi deve attrarre che poi sia una pietra di scarso valore o di ottimo valore uno può andare anche sulla spiaggia trovare un bellissimo sasso e incastonarselo perché perché gli piace sono tutti minerali sono tutte pietre quindi non non c'è una valutazione assoluta ma le valutazioni sono per sé molto molto personali e soggettivi detto questo spero che vi piacciono queste lezioni andremo avanti quindi mi raccomando mettetevi un bel like iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella e ci vediamo alla prossima lezione ciao ciao